Spaccato in due il tratto italiano della E45, l'arteria stradale europea che collega la Finlandia alla Sicilia e che in Italia è composta da strade statali e autostrade. Il tratto senza pedaggio, che va da Cesena in Emilia Romagna, a Orti, in Lazio, e da tutti conosciuto solo come E45, è stato interrotto all'altezza del viadotto Puleto, nel Retino, a poca distanza dalla Romagna. Il ponte è stato chiuso dalla magistratura perché sarebbe a rischio collasso. La decisione è stata presa per evitare un nuovo caso Morandi, dopo un video di un cittadino, che vediamo adesso, postato sui social. Ora bisognerà capire se questa situazione rappresenta solo l'ennesimo stop in questo tratto della superstrada, da sempre in manutenzione, oppure l'inizio di un dipensamento globale per un'arteria realizzata in gran parte su viadotti. L'intervento dei giudici potrebbe non essere l'unico. Il Ministero dei Trasporti negli ultimi mesi ha sollecitato alla società Autostrade, che dopo il crollo del ponte Morandi ha annunciato una nuova revisione di ponte e viadotti, la chiusura del ponte Paolillo sulla Napoli Canosa e suggerito limitazioni di traffico sul viadotto Il Moro all'altezza di Chiedi sulla A14. Sembra ci siano diverse strutture in degrado avanzato in Abruzzo. Osservato speciale anche il viadotto Sarno sulla 30 Caserta Salerno, le cui condizioni non sono così allarmanti rispetto al ponte Paolillo e al viadotto Il Moro.